E' stato veramente un onore essere qua, perché comunque la giuria è veramente di alto livello, anche l'organizzazione è qua, veramente sono molto bravi, molto professionali, tutto quanto sta funzionando e deve funzionare fino alla fine, spero per voi, con veramente successo, bravo, bravo, buon lavoro. Il livello, devo dire che è veramente uno dei migliori concorsi che abbiamo fatto qui in Italia, devo dire che il classico pure molto alto, oggi abbiamo fatto contemporaneo, veramente, veramente alto, anche il classico ieri l'ho trovato in molte scuole, sono veramente di altissime idee. Grazie